buongiorno a tutti oggi è domenica 28 novembre siamo al roma ai fidelity per iniziare la seconda giornata sono nevo e mezza e sono in compagnia di stefano zaini deus ex macchina di questo meraviglioso roma i fideliti e reduce di uno spettacolare milano e fideliti di qualche settimana fa buongiorno a tutti com'è andata ieri stefano come è andata ieri allora l'entrata capitolina confronto con la meneghina è un'ora dopo a milano è l'entrata alle 9 a roma alle 10 e comunque alle 10 c'era già un bel codazzo idem come il codazzo dalla alle 9 di milano si stiamo vedendo le immagini girate ieri mattina con una fila lunga parecchio ovviamente da come dpcm abbiamo l'ingresso contingentato a un max dell'hotel e all'ingresso si facevano i soliti controlli anti covide nominativi carta entità codice qr quant'altro poi pian piano entravano sennò che ovviamente si fondano si fiondano subito al meno uno dove ci sono anche le sale poi dopo vanno al piano piano più uno che sono sale ovviamente nettamente più piccole in quanto sono delle camere svuotate adibite a sala d'audizione 234 massimo cinque postazioni a sedere con un bel numero un bel numero nutrito di di queste soluzioni suonanti insomma diciamo che le sale più piccoline più o meno più o meno le stesse dimensioni si all'incirca si dai 16 ai 15 16 18 metri se non che ha due quelle proprio agli estremi sono 30 metri comunque ricordiamo che molti audiofili in casa un buon 50 per cento ascolta in questi questi 15 18 20 metri quadri è un 50 per cento ascoltano così quindi è un ascolto più che casalingo in definitiva infatti ho visto parecchi sistemi anche con bookshelf decisamente ben suonanti al piano più uno e ho visto tutti rispettare dirigentemente le imposizioni e addirittura persone che hanno apprezzato questa nuova formula ovvero contingentare gli ingressi cioè il fatto che si sta dentro la sala in tranquillità quei 20 minuti 30 minuti dove ovviamente si viene gentilmente più o meno invitati ad uscire per lasciare spazio alle altre persone però c'è tempo per l'ascolto c'è tempo per le informazioni uno stile che molti vorrebbero continuare a utilizzare anche dopo quando finirà questa emergenza tu invece cosa cosa hai portato di bello nella tua sala allora io ho portato una moglie un cane e l'organizzazione basta quest'anno ho detto allora io ne ho organizzate 46 di fiere tra una in sicilia 28 milano e 17 16 qua una cosa del genere o 18 comunque siamo alla 46 47 ho detto questa volta voglio fare il visitatore cioè io 46 fiere passate di di che ho organizzato io non ho mai visitato la mia fiera cioè la organizzo cioè io sono la organizziamo e poi c'è anche la sala suonante una cosa ho detto questa volta la voglio visitare e così ho fatto almeno mi sono tolto qua che poi è piaciuto questa cosa perché allora il discorso tanti espositori mi dicono ma Zaini venga a sentire anche la mia sala mi dice cosa ne piace ma ma non per perché gli fa piacere a loro no perché abbiamo anche un rapporto così in definitiva poi magari altre volte scorse ci trovavamo ma poi non è venuto c'è ragione ma c'è organizzazione poi c'è quello anche le cose Zaini mi serve una spina tripla cioè mi porti l'impianto di 100 mila euro non mi porti una spina tripla ma a queste cose ovviamente bisogna pensarci allora ho detto questa volta faccio il visitatore e me la sono visitata non ho ancora tutta oggi finisco e quindi questa volta non l'ho portato l'impianto e tanti odiofili entra Zaini dove ha l'impianto non ci credo non ci credo ma credici purtroppo è così al di là di quello cioè come si vede anche dalla mia fisonomia sto diventando sempre un po' più vecchietto e qualche acciacco ce l'ho e appena tornato a casa cioè al di là delle visite mediche scorse ma mi devo aggiustare un po' la spina dorsale d'altronde quando porto in giro i miei impianti non sono propriamente delle scatoline e quindi ovviamente ho qualche arnietta alla spina dorsale tra le solite L1 e L2 da sistemare quindi da mercoledì massoterapia insomma roba da curarsi un attimino dai vecchietti in definitiva però da qui a marzo prossimo ah sì no marzo marzo milano 12-13 marzo milano presenti nella mia solita sala con il mio solito impianto questa volta quella volta scorsa era un po' più leggerino che non mi sono portato l'analogico di fatti entra ma dove è il giradischio? a casa questa volta dai lo portiamo a marzo lo portiamo ok quindi ci avviamo all'inizio di questa seconda giornata ho visto già persone in fila già dalle 9 di mattina ricordiamo qui a prele 10 fino alle 19 certo e quindi Stefano grazie ancora per l'organizzazione grazie a voi e alla vostra splendida organizzazione e iniziative che piacciono a tutti grazie grazie però ci vediamo più tardi perché a questo punto visto che giri la fiera ti chiederò anche qualche informazione su cosa che è piaciuta di più ah 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 le due hostess ah 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 approvato grazie Stefano ciao ciao a tutti ciao grazie a tutti